Mattia, c'è il direttore dell'Ansa sulla linea 2. Oh signora. Buonasera direttore. Sì, certo. Titolare l'articolo trovato in granaggio di Erio Shardana dell'età del Ferrolbia sarebbe assolutamente pertinente, sì. Gloria ad Atlantide anche a lei. Nel 2006 è stato fatto ad Olbia, in Sardegna, quello che ad oggi, secondo me, è il più importante ritrovamento del XXI secolo. Durante uno scavo di emergenza è stato rinvenuto, in uno strato datato da diversi materiali alla metà del II secolo a.C., un frammento di ruota dentata in lega di rame di circa 4 cm, evidentemente un pezzo di un meccanismo complesso. Una volta stabilito che non si trattava di un infiltrato, cioè di un reperto più recente finito per qualche motivo in uno strato più antico, si è subito pensato che potesse far parte di un meccanismo analogo a quello di Anticitera, di cui ho parlato nel video sulla scienza ellenistica, e quindi si è interpellato immediatamente uno dei massimi esperti di questo meccanismo, Giovanni Pastore, che insieme all'archeologo Rubens Doriano ha studiato questo frammento. La lega di rame di cui è composta la rotella dentata non è bronzo, come si era pensato in un primo momento, ma le analisi di laboratorio hanno rivelato essere ottone, molto più raro e costoso del bronzo nell'antichità e con caratteristiche meccaniche migliori. Questo frammento integro doveva avere 55 denti, un numero che è compatibile alla realizzazione di un moto che simuli un ciclo astronomico. La caratteristica più interessante è senza dubbio il profilo dei denti, che non è esattamente triangolare, come quello degli ingranaggi della macchina di Anticitera, ma si incurva leggermente, dando ai denti una forma tronca verso il vertice, come gli ingranaggi moderni, cosa che consente un funzionamento più efficiente e quindi una precisione della macchina molto maggiore. In generale, Giovanni Pastore osserva che questo frammento è caratterizzato da una straordinaria precisione costruttiva, sbalorditiva se si pensa che è stato realizzato manualmente, senza i moderni strumenti di misurazione e taglio che oggi servirebbero per produrre un oggetto del genere e che cominciarono ad essere messi a punto solo un paio di secoli fa. Cosa significa tutto ciò? Iniziamo dalla cronologia. Il fatto che questo frammento sia stato trovato in uno strato datato alla metà del II secolo a.C. non significa che sia stato realizzato in quel periodo, ma che in quel periodo è stato interrato. Quindi il meccanismo di cui faceva parte è necessariamente più antico e tenendo conto che doveva trattarsi di un oggetto di eccezionale valore e prestigio, Rubens d'Oriano ha verosimilmente ipotizzato che sia stato usato e custodito per più generazioni e quindi costruito diversi decenni prima, verso la fine del III secolo a.C. Tra poco vedremo più nel dettaglio perché proprio in questo periodo. Ma prima, di quale marchigegno stiamo parlando esattamente? Ho già detto che doveva essere analogo a quello di Anticitera, quindi riprendiamo brevemente in considerazione quest'ultimo. Un calcolatore analogico che riproduceva il moto del Sole, della Luna e delle principali costellazioni. In altre parole, un planetario. Tale doveva essere anche la macchina di cui faceva parte il nostro frammento, molto più sofisticata però di quella di Anticitera e di circa 150 anni più antica. Questo planetario doveva essere una di quelle meraviglie della scienza ellenistica di cui ho parlato nell'altro video, costruito da uno scienziato di eccezionale ingegno e che sicuramente aveva destato l'incanto di chiunque lo avesse visto. Effettivamente un oggetto del genere è menzionato da diversi autori. Cicerone tramanda nel De Repubblica che il console Marco Claudio Marcello portò a Roma, dopo la conquista di Siracusa, un globo celeste e un planetario costruiti da Archimede. Di questo planetario parla anche Ovidio e gli autori di IV secolo d.C. Lattanzio e Claudiano. In particolare quest'ultimo sembra dare una descrizione più precisa di quella di Cicerone dicendo che il planetario era racchiuso in una sfera di vetro. E probabilmente il suo aspetto doveva essere proprio questo, visto che sappiamo che Archimede scrisse un trattato, andato perduto, intitolato Sulla costruzione della sfera, in cui esponeva i postulati che aveva applicato per la sua costruzione appunto. Sempre da Cicerone apprendiamo anche che il planetario di Archimede fu custodito dalla famiglia di Marcello e che venne mostrato dal nipote omonimo del conquistatore di Siracusa a Gaio sul Piccio Gallo, uomo politico e famoso esperto di astronomia, riguardo al quale Tito Livio riporta un racconto che, alla luce di quanto detto finora, assume una rilevanza del tutto particolare. Alla vigilia della battaglia di Pidna avrebbe previsto un'eclissi lunare, evitando che i legionari ne venissero intimoriti, cosa che invece accadde ai macedoni. Se pensiamo che Gallo conosceva e probabilmente aveva la possibilità di usare il planetario di Archimede, potendo quindi prevedere il moto del Sole e della Luna, ecco che questo racconto assume una dimensione ben più realistica di quella aneddotica. Ed ecco spiegata l'ipotesi di una costruzione di questa macchina durante gli ultimi decenni del III secolo a.C. Sarebbe niente meno che l'originale planetario costruito da Archimede, evidentemente prima della sua morte nel 212 a.C. C'è un ultimo arcano da spiegare. Come sarebbe finito Olbia 60 anni dopo? Beh, sappiamo che Marco Claudio Marcello, il giovane, ultimo possessore noto del planetario, venne inviato con urgenza in Spagna per combattere i Celtiberi nel 152 a.C. E sappiamo anche che per raggiungere la Spagna, oltre alla rotta che passava lungo le coste della Liguria, ne esisteva anche un'altra, più veloce ma più rischiosa, che passava attraverso le bocche di Bonifacio e di cui Olbia rappresentava un naturale scalo. Potrebbe essere che Marcello avesse portato con sé il planetario per ostentare il proprio status, secondo un abituale costume romano. Ma rottosi durante il viaggio, o proprio a Olbia, magari mentre veniva orgogliosamente mostrato a qualche maggiorente del posto, sarebbe stato qui abbandonato. Forse le spiegazioni potrebbero anche essere altre, ma i fatti sono che il frammento di Olbia è pertinente a un congegno di altissimo grado tecnologico, analogo al meccanismo di Anticitera, che è stato interrato a metà del II secolo a.C. a Olbia, che esisteva un planetario con queste caratteristiche tecnologiche costruito da Archimede, che questo era in possesso di Marco Claudio Marcello e che questi, nel 152 a.C., venne inviato in Spagna. Sono abbastanza indizi per poter ragionevolmente ipotizzare che il frammento di Olbia sia un pezzo del planetario costruito da Archimede in persona. Ringrazio di cuore l'amico archeologo, nonché scopritore del frammento di Olbia, Giuseppe Pisano, che mi ha fornito le indicazioni bibliografiche per l'articolo di Giovanni Pastore e Rubens Doriano, che costituisce la fonte di questa puntata. Se poi voleste supportare il nostro canale in modo più diretto, potete farlo attraverso il pulsante Super Grazie o il link PayPal che trovate nel primo commento sotto questo video. Io sono Mattia e questo è Humanistic Valley. Grazie a tutti. Grazie a tutti.